davanti dietro che cazzo è ragazzi transformers ma porco zio porco io imita non li posso giocare come benvenuti a tutti ragazzi e oggi parlo a bassa voce perché è tardi e se strillo troppo di madre viene qua con la ciabatta e me ne tira una del boomerang non so se le vostre mamme le vostre nonne le vostre sorelle hanno mai tirato le ciabatte delle comandate ma a me è capitato praticamente arrivano ciabatte tornano indietro e ti ritornano un'altra volta e pure se te io lì dentro le ciabatte arrivano quindi detto questo ragazzi oggi vi propongo un video particolare un video molto figo che non è stata la mia idea ma di federico ha messo sto video praticamente con diversi gulag molto fighi non sono troppi quindi il video un po corto ci sta e sto parlando apposta per farlo allungare ma non vi preoccupate perché tanto la modernizzazione la facciamo uguale non vi preoccupate la pubblicità tanto la schipperete uguale detto questo detto questo video particolare perché belle kill nel gulag molto fighe io faccio c'è chiaro la madonna me incazzo perché non entrano le cose a mano che mi comunica veramente tutte cose a caso quindi ragazzi è un video particolare però è molto figo ed è per questo motivo che voi nei commenti a parte mette like come faccio come quelli arrivati a 20 mila like poi riceverete un pacchetto di patatine finus ha detto questo commentate mettete mettete nei commenti niente famate papaglia papaglia hashtag papaglia come a caso totalmente a chi cazzo gli fate fare le cose non gli fa nessuno a chi gli fate scrivere il commento come essi onesti federico vai mezza faccia scura mezza faccia sembra di un ringo 10 10 meno 2 8 8 più 3 11 11 più 2 13 13 più 4 17 17 più 2 19 19 meno 4 Quindi 12 13 Esatto, esatto Esatto Esatto, esatto Guarda mi padre Se mette là Guarda qua È più panza che petto Guarda che bello È una branda però È incazzato È di senza piante Sì, sì, sì Ok, raga Cioè, se dimmi to stab Allora, ce l'hai sinistra Centrale, centrale Clippate Clippate questa co... Sono poco concentrato Cazzo a me Sono poco concentrato Sono poco concentrato Sto cazzo Il cecchino Di San Cesario Per la prova costume È centro-sinistra Ti pusha davanti-dietro Il davanti-dietro Che cazzo è? Ma che è davanti-dietro? 3, 2, 2, 1 Oh ma baby girl You must baby walk It's fantastic It's fantastic You can touch better And touch it everywhere Ah no C'è il gulag col bug Fuori o conquista l'obiettivo Ho provato a Jack Eccolo, sta alla destra Da in fondo Come faccio? Ma come faccio? Ma come faccio? Ragazzi Transformers Ma che cazzo io Io al mio senso ha? Oh! Non mi entrano i golpi Ragazzi Clippate Vi prego Io Io non lo so C'è qualche problema questa sera Non voglio di cazzate Ma non mi entrano i golpi Guadagnati il rientro Ragazzi Che cazzo Ma sempre sta pistola Non mi date sta pistola Che sono la pippa Oh! E dai! Che culo Dai cazzo Il movimento dal jaguaro Mi serve una mano Eh no Eh no Ehi 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 Sparagli Sparagli Oh! Si è cascato Madonna la vedo Che cazzo Madonna mia Oggi c'ho soltanto E la testa Aaaaa Ehi Ehi Ma carena Arrivo Il rumore Ho conquista l'obiettivo Cerchi di rimanere vivo Alta Arrivo subito Tutti quanti voglio fare il jazz Come è possibile? Come lo fa? 3 2 1 UUUUU 3 2 1 Il mozzaccesario Il cecchino Disaccesario Ecco Ma Berta Berta Ma chi cazzo Ad espotter Sì Qua No porco Dito Dito Te l'ho detto io Ti non mi ha scolto No Dai guarda Ti cazzo Su Cazzo Aaaaaah 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 Il cecchino Di Sanchez Perché? Mi spiegate perché volete essere Una curiosità Perché volete essere salutati Raga Preparatevi che campereranno tutti Camperanno tutti Camperanno tutti Guadagnati la libertà Soldato Ma porcozio porco Io imita Non li posso giocare Shortdising Ok Scusate Perdonatevi per questo sfogo Mamma mia All'Eerson Esatto Esatto Estone è pedo Allora io pensavo come il prossimo video Qua veramente dovete aiutarmi Volevo fare tipo una rubrica di video sui miei migliori armi Le best of quindi i migliori smg In realtà nemmeno i migliori Ma come andrei a equipaggiare un'arma Anche se non era migliore Vi faccio un esempio Cazzo ne so Lo striker Che non si usa Però io lo utilizzo Vi faccio un video sullo striker E vi dico secondo me lo striker giocato così potrebbe andare bene Poi voi magari potete Tipo no fa cagà a moon Cazzo se ti metti questo e quest'altro Però di tutte le armi Tipo una rubrica La moon a armory O che cazzo Non so Qualcosa che Creiamo qualcosa insieme Andiamo a discutere di diverse armi Di come si potrebbero equipaggiare Di cosa si potrebbe fare con quell'armi Se schifo o bene Vedete nei commenti se vi piace come idea Quale vorreste vedere per prima Se magari partire prima Da una R Da uno sniper Da uno smg O dallo sniper Perché da uno sniper Oppure pensate che sia meglio fare macro categorie Parlaci degli smg in generale Parlaci degli R Di fugi d'assalto Tattici Che cazzo ne so Farmi la mischia più fighe Perché porti lo scudo moon Se fa cagare O cose così Io Ho raggiunto 8 minuti Direi che ci sta Era anche un videotest questo Per vedere quanto effettivamente La mia parlantina riusciva a distrarvi Dal minutaggio che scorreva sotto Vedo di esserci riuscito Vi voglio bene Vi ricordo che Sono sempre live su Una cosa che non posso dire La mattina e la sera Dalle 10 Poi alle 8 Ah ricordate una cosa importante Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti